prepariamo oggi frigitelli con magic cooker inseriamo in pentola dell'olio uno spicchio di aglio e i nostri frigitelli copriamo con magic cooker e lasciamo andare a fiamma viva fino a che non si solleva la calotta diamo una leggera mescolata perché siamo ormai a metà cottura aggiungiamo i nostri meravigliosi pomodorini e cuociamo a fiamma media per altri tre minuti trascorsi tre minuti aggiustiamo di sale diamo una leggera mescolata da notare i colori meravigliosi e lasciamo ancora un minuto prima di servirli cottura ultimata non ci resta che servirli